La gioia per un gol che mancava da un po' di tempo, la delusione invece per una vittoria mancata? No, la delusione no, abbiamo fatto il massimo, abbiamo giocato benissimo anche oggi, abbiamo dato prestazioni fantastiche, però noi raccogliamo pochi punti, però continuando con questa determinazione sicuramente arriveranno delle partite dove ci girerà un po' di fortuna. Dopo una parata di Boruc, un'altra prima del gol, è un gol di rabbia questo, l'ha dovuta sbattere dentro a un certo punto. Sì, poi le situazioni che capitano in campo vanno sfruttate, io cerco sempre di crearmi le occasioni, alla terza sono riuscito a fare i gol e sono contento di questa parte. Eri stanco quando hai avuto il cambio? Sì, ero stanco perché da tanto che non gioco avevo fatto due partite in tre giorni, quindi ero un po' stanco, però si va avanti e si lavora per migliorare la condizione. Che cosa dice questa classifica, insomma? È ancora un po' preoccupante? Sì, è preoccupante. Siamo a 30 punti, giochiamo bene, creiamo le occasioni, quindi non dobbiamo essere preoccupati per come giochiamo, però dobbiamo cercare di raccogliere più punti possibile per salire un po' la classifica e arrivare nelle posizioni che aspettano noi. Da studio, velocissimi. Ci spiega il risultanza intanto? No, ma era con Jonathan, benvenì, una cosa che avevamo fatto in allenamento e abbiamo fatto in partita.